23.21 ritorniamo il Nido delle Aguile, siamo in diretta dopo il terzo collegamento telefonico adesso è il turno di Antonio, di Alberto e di Gianfranco di dire qualcosa perché fino adesso abbiamo parlato poco, hanno parlato i nostri osfi, magari per fortuna, degli ascoltatori no io ci tenevo a sottolineare che Immobile ha raggiunto Tommaso Rocchi a 105 gol complessivi con la maglia della Lazio e ha superato dopo Sorga Lewandowski ci stavamo arrivando pian pianino, anche per quanto concerne la classifica del Palone d'Oro Immobile si è lasciato finalmente Sorga alle spalle e anche Lewandowski comunque un po' poi una rivincita secondo me pure per lui perché lui era andato poi al Borussia Dortmund nell'anno in cui avevano sceduto Lewandowski e lui doveva essere l'erede di Lewandowski poi non è andata molto bene per lui a Dortmund quindi quella è la lingua che ne ha aiutato ma è un po' pure il contesto in generale, non era semplice andare in una squadra e comunque poi era riduce qualche anno prima da una finale di Champions da livelli molto importanti, anche se poi comunque credo che la dimensione reale di Immobile sia la Serie A non lo vedo da campionati esteri, anche poi Spagna comunque non ha fatto granché poi è tornato in Italia ed ecco che è esploso nuovamente ma al di là di tutto che poi comunque il pallone d'oro credo sia un riconoscimento poi il pallone d'oro, il pallone d'oro mi sembra un po' esagerato la scarpa d'oro è comunque un riconoscimento poi singolo io penso comunque invece a quello che può essere diciamo possono essere i record di Immobile in chiave Lazio mi piacerebbe vedere poi Immobile, chi lo sa appunto come chiedevo prima al nostro ospite in cima alla classifica dei bomber della Lazio di tutti i tempi questa è una cosa che mi piacerebbe parecchio c'è chi ci ha costruito una carriera da recordman a scarpa d'oro quindi penso che vince pure Immobile ma noi dopo, adesso che non c'è più sorga pure il fascino della scarpa d'oro per noi è un po' all'aperso beh sì perché ora il campionato Estone non so se è già terminato comunque è addirittura d'arrivo quindi un po' perso il fascino, questa buca solitaria di Immobile è così non è che non è giusto prima questa rincorsa beh sì diciamo almeno non ha lo stesso sarcasmo però ora diciamo all'orizzonte per Immobile beh c'è pieno di tutto staccare poi l'occhi che comunque è un altro grande della storia della Lazio che ha vinto comunque i trofei importanti con la Lazio la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana nel 2009 e poi comunque di raggiungere Giordano il prossimo a 108 che sono i traguardi che secondo me può cioè secondo me si spera perché poi tre gol che appunto possa raggiungerlo il prima possibile mentre per gli altri tre Chinaia, Signori e Piola probabilmente comunque ci vorrà ancora del tempo certo che se continua a segnare qua la media che ha segnato fino adesso se continua a segnare così sì poi vabbè diciamo si permette pure di lasciare i rigori agli altri tra l'altro ma quello sì è un eccesso di generosità però questi sono gesti belli che mi fanno pensare veramente poi all'armonia di trovata della Lazio perché all'inizio campionato diciamo si ipotizzava anche che ha uno spogliatoio distrutto questo vuol dire che comunque non è egoista ma fino a un certo limite che poi guarda pure il bene della squadra, del gruppo bella cosa ha detto poi bene nel post partita che comunque Luis Alberto meritava di segnare praticamente il record man degli assist non solo nel campionato italiano ma nei maggiori campionati europei no no, no, so già cosa vuoi dire sì 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 non è così, da ieri sera è cambiato da ieri sera non è così però vabbè quello poi dipende sempre da come si diciamo da come si interpreta il proprio lavoro se almeno io la penso così perché comunque ma in generale credo ma al di là della gaffo clamorosa comunque penso che bisogna prima realmente documentarsi non è detto che poi a volte per forza dare il dato in diretta rende lustro ecco poi in alcuni casi anzi fa cadere veramente nel ridicolo sì abbastanza perché comunque al di là poi di quella che può essere poi la rivalità Lazio-Roma nel mezzo c'è sempre anche Kevin De Bruyne quindi comunque tra l'altro quindi comunque si parla di qualcosa di inesatto al di là del fatto poi della rivalità Lazio-Roma di quello che possa essere diciamo che possono essere stati gli assist di Luis Alberto piuttosto quelli di Pellegrini che comunque poi se dobbiamo appunto essere sportivi e rendere merito comunque sta facendo un'ottima stagione sta facendo degli assist comunque anche belli da vedere però il dato è chiaro il dato inconfutabile è che Luis Alberto il miglior assist man d'Europa stop poi il resto sono solo chiacchiere secondo De Bruyne sì assolutamente sì sì questi sono poi diciamo per Immobile ci potrebbe essere la diciamo l'inseguimento ad un altro traguardo ovvero quello del del record di Higuain di tre stagioni fa molto difficile 36 36 sì 36 sì che aveva diciamo Higuain aveva bastato quello di Nord alla 35 quindi la vedo molto dura però diciamo siamo ancora alla quattordicesima siamo ancora all'inizio dicembre i numeri in tal senso possono lasciarlo presagire però poi sono tante varianti variabili durante il corso di una stagione ma semplicemente anche magari un periodo di appannamento ti può far perdere quella scia o in generale comunque ecco vedi anche ieri per dire o a Firenze sono state altre due occasioni tra virgolette perse perché immobile calciando quegli altri due rigori poi mi devi sempre segnare per carità però metti caso e sei calciato e segnato quei due rigori a quest'ora era già 19 e quindi comunque diciamo si avvicinava ancora di più poi non so se magari lui in cuor suo al di là diciamo dei record o quant'altro diciamo della generosità ha ceduto questi rigori anche per magari forse stufato dal segnare sul rigore non lo so può essere anche questo non lo so mi è venuto in mente anche questo perché magari un attaccante sia ovvio che vive per il gol in qualsiasi modo o in qualsiasi momento però io credo che l'abbia fatto proprio con con il cuore comunque sicuramente di base sicuramente anche perché poi Luiz Alberto è un fornitore ufficiale dei passaggi a immobile se abbiamo proprio i passaggi no ma infatti penso ecco al dire tutto proprio come una cortesia sai quando qualcuno ti fa un piacere così se immobile è arrivato a queste cifre a questi livelli lo deve veramente tanto a Luiz Alberto alle sue giocate le sue intuizioni perché ne ha fatti tanti non solo poi ad immobile ne ha fatti tanti anche ad altri giocatori quindi comunque a prescindere Luiz Alberto quando c'è la palla 9 volte su 10 la passa a immobile anche se sta in panchina comunque prova a passare no ma c'è un'intesa c'è un feeling penso anche al di fuori del rettangolo verde sì sì ma questo poi il bello di vedere questa Lazio in questo periodo è proprio questa questa alchimia questa affinità che c'è tra tutti i componenti e credo veramente sì sì sia proprio sia risorta da delle macerie perché comunque è vero probabilmente lo scorso anno anche all'inizio di quest'anno c'erano stati degli attriti delle problematiche però invece magari ecco poi risanando il tutto ecco che la Lazio è tornata a fare quello che poi ci ha abituato a come succede nelle buone famiglie da persone intelligenti ci si mette seduta a tavolino e si discute perché è normale che ci siano 22, 23, 24 caratteri uno diverso dall'altro è normale che possa esserci questo l'abbiamo sentito anche dall'intervista di Lazzari che comunque ha detto mi hanno messo a disposizione tutta la loro sia voglia di farmi entrare in questo gruppo che la voglia di giocare quindi insomma sicuramente questo è uno dei meriti che abbiamo sempre dato a Inzaghi di prevalere il gruppo rispetto a certe volte anche alla parte tecnica e questo poi porta risultati c'è poco da fare ma assolutamente li vediamo gli entusiasmi il gol che ha fatto Sassuolo Gaizeto dove è partito Inzaghi con tutta la panchina li vediamo spesso questi eccessi che ci piacciono naturalmente di gioia visto questa cosa che dici il gruppo è talmente unito coeso che a gennaio se arriva qualcuno potrebbe disturbare l'armonia di questo gruppo giusto? infatti Tari ha messo subito le mani avanti infatti sì avevo visto questa cosa qui non abbiamo bisogno di nulla a gennaio vabbè diciamo certe volte sono pure frasi di circostanza poi magari se capita l'occasione secondo me vabbè qui ritorniamo sempre ma io dico vabbè naturalmente mi auguro che succeda il miracolo che il Celtic vinca in casa del Cluj però laddove dovesse realmente concretizzarsi l'uscita all'Europa League come appare più probabile credo che poi sia un assist per la società perché a quel punto non avendo nemmeno più il doppio impegno sì ok c'è la Coppa Italia però la Coppa Italia sono comunque poche partite che in poche partite ti permettono di arrivare in fondo qualora le dovessi poi vincere tutte tra l'altro le prime non sono nemmeno con squadre di Serie A quindi insomma sì quindi diciamo che lì anche le seconde linee che hanno tanto deluso nel corso di questa Europa League dovrebbero comunque ben figurare anche se secondo me probabilmente forse è l'unico movimento che ci potrà essere penso secondo me a centrocampo dove appare più che probabile secondo me la cessione di Beriscia perché anche queste ultime non convocazioni giustificate con dei problemi fisici a me mi sembrano veramente ridicole perché gioca due settimane in nazionale torna problema fisico no a quel punto il giocatore diciamo ha subito l'amazzata definitiva con l'errore contro il Celtic a questo punto ma credo anche lui ma lo si vede pure nel modo in cui approccia pure anche entrato poi nella partita con Lecce però non ho visto quella cattiveria quella voglia di riscatto ho visto più che altro quella voglia di evadere ecco quindi secondo me diciamo la sua esperienza la Lazio è arrivata al capolineo ma purtroppo ecco è stato pure aspettato ampiamente secondo me perché un anno e mezzo è un periodo giusto congruo per valutare il profilo di un giocatore sì questo sì però non si è adattato per niente ma anche già l'anno scorso nella finestra di gennaio si ipotizzava un suo ritorno in prestito al Salisburgo cioè dopo sei mesi questi discorsi qua mi fanno proprio presaggire ad un fallimento mentre invece pazienterei ancora anche se lo so che mi guarderete male per Vavro perché dice pure Gianfranco diceva sì è stato utilizzato poco per carità poi quel poco che è stato utilizzato anche a me ha lasciato dei dubbi e delle perplessità assurde cioè veramente da meglio scomodare il buon Armini dalla primavera l'altra sera è un po' meglio perché lì c'è qualcun altro che non fa scomodare Armini l'altra sera è un po' meglio rispetto alle ultime uscite di Vavro giusto l'ultimo gli ultimi 5 minuti ha fatto quella stupidaggine sullo stop ma secondo me era proprio arrivato fisicamente se no è stato abbastanza pulito abbastanza corretto nei 90 minuti quindi sì anche perché la domanda che mi faccio io è come penso quelle che si fanno tutti se qualcuno è andato l'ha visto e l'ha portato qualcosa di buono ci avrà sto ragazzo quindi aspettiamo no ma anche perché poi ha giocato comunque diversi anni anche in Europa League perché comunque il Copenhagen giocava le competizioni europee eliminarono l'Atalanta lo scorso anno e lui comunque giocava titolare tra l'altro da centrale ha giocato e ha giocato molto meglio con meno pressioni rispetto ai due esterni di centrocampo cioè il centrodestra e il centrosinistra ha giocato a centrale ha giocato infatti a Cervi era spostato ha giocato più tranquillo no ma io credo anche poi che comunque lui si stia adattando anche al modulo perché se non erro il Copenhagen giocava a 4 e queste sono sono delle varianti sì si può dire è vero giochi a 4 su un campionato come quello e viene a giocare a 3 in un campionato come quello italiano insomma no per carità poi sono sempre l'opinione se è un professionista e quant'altro certe cose vanno assimilate però un minimo di attenuante ancora voglio dargliela anche perché poi è un investimento di 12 milioni di euro penso prima di diciamo di poi buttarlo via e ce ne vuole quindi bisogna dargli spazio invece volevo chiedere a voi che impressione ha fatta De Cagne a me positiva nel match di Europa League l'avevo visto in qualche amichevole molta voglia molto dinamico deve crescere tanto da rivedere sì comunque positiva sì molto propositivo stava dappertutto se vista la voglia comunque di far vedere ci sto anch'io tecnicamente secondo me c'è pure qualche numero però certo il problema è che non trovo spazio Caicedo perché davanti c'è chi c'è quindi sarà un po' difficile ecco magari per la Coppa Italia sarà sarà penso tornerà utile io è giovane quindi può crescere insieme a centravanti come Immobile e come Caicedo sicuramente questo discorso che facevamo prima per Anderson vale pure per la De Cagne sì sì quanti anni c'ha 21 20 quasi 20 quasi i numeri c'è là poi strada facendo bisogna vedere se mantiene le promesse perché comunque parliamo di un ragazzo che è stato insomma non dico ceduto a cuor leggero però insomma Liverpool non è affatto niente per trattenerlo quindi bisogna vedere tante cose tra l'altro non viene dalla Telestina viene dal Liverpool insomma anche le le giovanili che ha fatto le ha fatte con società importanti quindi ha calcato palcoscenici importanti e si è visto l'altra sera comunque che non è uno che sente la pressione c'è un aneddoto su De Cagne che il terzino del Liverpool Alexander era molto timido cioè era bravo aveva i numeri ma era molto timido allora per allenarlo l'avranno messo proprio col più tecnico che era De Cagne che lo doveva uno contro l'altro palla al piede e intorno c'erano tutti i preparatori atletici magazzinieri altri componenti dello staff del Liverpool che stream di Cagne